Sempre vi attrusiamo nei canali bassi Ehi Logstar E Elvis Presley Allora, oggi siamo in un nuovo video Ho degli iscritti perché siamo arrivati finalmente a 500 Grazie a tutti E anche a tutti i rompicoglioni Soprattutto a loro Non si può fare senza iater E cacca Esatto Volevamo fare uno speciale 500 iscritti Ma non sappiamo bene di preciso cosa fare Cioè un'idea ce l'avremmo però un po' un casino E bo Se voi volete proporre qualcosa di fattibile Non lanciarsi da un paracadute o fare bungee jumping Ma non si può fare un po' un casino Oh, so flamm, b***h E' un ragazzone sul loro quartiere, si chiama quartiere Ti manchi, no, però Ok, sembra l'Appolo Gang Si, pare, è così Oh, io lo voglio, sto bicchiere, io Cosa delle cipolle? No, è un campote Una bevanda... Ah, quello è io Oh, perché io comunque li vedo bene, tipo sei un telefilm o una roba del genere? Eh? Fare così Dobbiamo fare un numero proprio Oltre muri ci state trappanando anche i cozzoni Così Così Aspettiamo un attimo 2.000 anni Later Per prima di ascoltare i tuoi spavolini mi piace Che ci sono i bis La voce parla perché sennò qua Oh, ragazzi, mi è piaciuto No, ragazzi, mi è piaciuto Eh, sono molto... Spera la famiglia perché ti distrae Eh, sì, non so che cazzo dire Ehm... Allora... Facciamo il professionale, facciamo vedere che non è il primo giorno Facciamo E anche un trapano che ci trapano davanti alla faccia Ci ferma neanche un trapano, sì Ehm... Sì, le cazze della... Calè Ehm... E allora mi è piaciuto Loro sono molto... Non lo so, cioè... Sembra così che... Cioè, sanno recitare bene Però la canzone è bella Però mi sembra la solita tamarrata con l'autotune E forse è proprio quell'autotune che rovina tutto Ehm... Ehm... Boh... Da uno a dieci... Comunque per il video io ti do dieci perché mi è piaciuto un botto Mezzo trash Mezzo novo ci sta E per la canzone ti do otto Onesto Ma io... Stavo facendo la canzone Ehm... Coglione di merda Che da qui alla Russia non ci vuole tanto Ehm... 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 Non so, non so, non so. Viavano! Non so, non so. Non so. E non so. Non so. Poi? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ha vinto tutto Pizzate i track, a*****e, malediatso Mi ha stupito Che ch'è lo zavuto? Spacca Che serie cross russo? Oh ma non partiamo mai quando faccio così non partiamo Credo di che quando parta lo senti Che strano il vito Eh? Ma quello non è sempre lo stesso No È un altro Questo è scritto io Vabbè te l'ho fatto sentire con quell'altro c*****e Il migliore Parlano comunque tanto bene di lui Dicono che è veramente talentuoso Perché anche fa i beat da solo Cioè i testi che Spaccano un botto C'ho un flow stranissimo però è Cioè alza la la voce Sembra che sta parlando Non ho mai sentito il pro così Va che non è una roba È difficile Oggi tutte bombe Mi ha deciso così È una roba che non sentivo da tanto Cioè tipo io Lo ricollego a Ricross Che il primo Eh sì il primo sì Lo ricollego a Ricross Il secondo non riesco a ricollegarlo a nessuno Cioè è praticamente una cosa unica Il pro come è partito Boh, io non l'ho mai sentito da nessuna parte Una roba del genere All'altro che mi piace di Skeptownita è che L'uva è molto importante E va che comunque Cioè è difficile nel Nel 2017 O nel 2018 Comunque Ma è pure lì che ti dicevo che Adesso ne va dal rap Ti ricordi che te l'avevo detto Ma fai una cazzata No Mi è piaciuto Io già davvero ho sentito Allora Dito 9 Perché secondo me il video Potremmo fare qualcosa in più Sì sì Però 9 Meritato Io anche stavo 9 E Poi Al prossimo video Che f*** Che f*** è o Vai 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 Ti racconto Parcoli io Che f***o quedil Che f*** Che f***o Che f***o Tres po livelli Cosa Mamma È un t klouetto E un t baile Siamo ragione, ma quando facciamo noi? Non posso fare le conoscere? Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non quero mi attaccare, non mi piace. Si yine. Non mi piace, non mi canta. Non ti piace, non mi piace. No, non ci sono i bambini No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 facciamo 7.50 se no non facciamo un cazzo chiudiamo il canale vedete voi sono anche tagliato il ginocchio vedete le sponzate no comunque scriveteci voi se no porteremo qualcosa a noi e un cazzo e stavate un like potpissate sul canale potpitto 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 insieme i nostri i nostri nostri i ragazzi spero che vi piace il nostro video e volevo spostarvi a te e te spostare a te e tutti che guardano il nostro video per aiutare a più veloce a riuscire al 1000 iscritti per aiutare e io ci sono un grande grazie e ci sono e stai attuando b****